L'approvazione del business plan opiano industriale trasmesso per le previste autorizzazioni regionali dalla società in house dell'ASLBAT da parte delle istituzioni del governo sanitario regionale e la garanzia di nuove assunzioni a copertura della grave carenza. Si tratta di 117 unità lavorative di personale addetto alle pulizie e attività di ausiliariato. Sono queste le richieste di FPCGL, CISLFP, Will, FPL, Sanità, Service, ASLBAT che hanno organizzato un sit-in di protesta davanti alla sede del Consiglio regionale pugliese. L'obiettivo è garantire adeguati e soddisfacenti servizi ai cittadini utenti del servizio sanitario regionale all'interno delle strutture ospedaliere e territoriali dell'azienda sanitaria locale della provincia Barletta Andrea Trani che risultano carenti di figure professionali soprattutto a seguito della mancata proroga di circa 47 contratti di lavoro sin dal primo aprile oltre alle mancate sostituzioni del personale andato in pensione che potrebbero mettere a rischio in termini di sicurezza, igiene e sanificazione degli ambienti di ricovero e cura gli utenti. Noi abbiamo un grosso problema, intanto manca la programmazione nel senso che i servizi di pulizia sono dei servizi essenziali, non possono esserci delle strutture sanitarie senza una qualità di igiene elevata. Da tempo si sapeva che mancava il personale, siamo in attesa della validazione del piano industriale che è un atto necessario per poi procedere alle assunzioni. Abbiamo trovato una soluzione di tampone ricorrendo alle agenzie del lavoro con una quarantina di lavoratori, ma siamo preoccupati perché avranno 45 giorni di contratto, cioè il 31 agosto il contratto è scaduto, quindi a settembre avremo lo stesso problema. Quindi noi chiediamo l'immediata validazione del business plan in maniera tale da attivare poi tutte le procedure possibili, anche per dare contratti a tempo indeterminato, cioè noi siamo contro la precarietà, si continua con questi contratti a tempo determinato e non è accettabile. Noi auspicchiamo che ci convochino perché abbiamo inviato più di una nota, perché già c'era stato un sit-in in piazza prefettura a Barletta, però devo dire che la regione è stata sorda, oltre alle interlocuzioni informali è stata sorda, quindi mi auguro che almeno oggi abbiano il buon senso di convocarci e di darci delle spiegazioni.